All'indomani della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che dopo la revoca del Comune nei confronti della Blue Parking ha dato piena legittimità alla società Teate Servizi di gestire i parcheggi e la scala mobile a Chieti, da domani gli automobilisti dopo 20 giorni torneranno a pagare per la sosta. A domani saranno attivi i parcheggi a pagamento nelle tre aree a raso di Piazza San Giustino, della Piazza Garibaldi e della zona a livello sovrastante di Papa Giovanni XXIII, oltre ovviamente ai parcheggi coperti che hanno sempre funzionato, che non hanno mai smesso di funzionare, sin dal primo maggio quando Teate Servizi ha avuto dall'ente l'affidamento di questo nuovo servizio. Il pagamento del ticket avviene a mano con incasso diretto da parte dei posteggiatori in attesa che la società acquisti e metta in funzione i nuovi parcometri. Gradualmente i parcheggi torneranno a pagamento anche negli altri stalli. La scala mobile, che collega il terminal bus al centro della città, entro oggi pomeriggio al massimo domani mattina, riaprirà, come hanno confermato l'amministratore e il direttore di Teate Servizi Giovanni D'Amico e Antonio Barbone. Ieri mattina gli addetti hanno seguito una lezione di formazione in loco per consentire la riattivazione dell'impianto e manca soltanto l'ok della regione. Secondo il piano industriale depositato nei mesi scorsi, l'incasso derivante dalle strisce blu è di circa 1.200.000 euro l'anno, dei quali 600.000 euro destinati alla Teate Servizi per coprire le spese del personale di gestione, mentre la restante parte confuirà direttamente nelle casse del comune. Resta aperto il capitolo riguardante il futuro dei 18 lavoratori dipendenti di Blu Parking, che venivano impiegati nel servizio parcheggi e la cui ricollocazione nella nuova società appare altamente improbabile. Quando riguarda nello specifico il personale di Blu Parking, io ricordo che questo è ancora assunto dalla Blu Parking, e quindi anche volendo Teate Servizi non poteva assumere questo personale. Fermo restando che Teate Servizi, essendo una società in house del comune, deve sottostare a tutta una serie di regole e di vincoli per il ricordamento del personale, che sono gli stessi di una pubblica amministrazione.